Harrison tu hai scelto di protestare, quindi hai lasciato aperto insieme a una serie di colleghi e ovviamente hai preso la multa. Tu sei giovane, possiamo dire quanti anni hai? Sì, 25. 25, è un bar di famiglia, l'hai aperto tu? No, l'ho aperto io da zero, ce l'ho da tre anni e nell'ultimo anno ne ho acquistato un altro. E niente, ho un finanziamento in piedi che pago da sola, ho chiesto aiuto ai miei genitori nell'ultimo periodo per sostenere le spese, però adesso io non ce la faccio più. In sicurezza ho deciso di aprire con l'aiuto dei miei clienti che mi supportano, ho avuto anche molto supporto da persone esterne, quindi che di me non sanno praticamente niente. E mi ha fatto molto piacere, sono stati tutti bravi, si sono comportati tutti benissimo. Però perché hai scelto di protestare, quindi di aprire il 15? Perché il sacrificio a me richiesto non è proporzionale ai ristori che ho ricevuto. Possiamo chiederti le cifre un po'? Certo, allora nel 2020 ho perso 37 mila euro, me ne sono stati dati circa 5 mila di questa perdita. Ho 1000 euro di affitto ogni mese e è un anno che praticamente non lavoro. L'asporto inizialmente funzionava perché era la novità e piaceva, poi giustamente portarsi in ufficio un caffè freddo non fa piacere a nessuno. Senti, nell'arco di qualche ora tu hai tenuto aperto e chiaramente sono arrivati gli agenti o i carabinieri, non mi ricordo. La polizia locale. La polizia locale, esatto, gli agenti di polizia locale e ti hanno multato, ma non sai neanche di quanto, è vero? È vero, no, allora loro hanno fatto un verbale di accertamento dove hanno spiegato la realtà dei fatti, quindi che non ho violato nessuna norma anti-covid perché avevo tutti i clienti seduti con la capienza massima, tutti avevano la mascherina, però stavano consumando al tavolo. Hanno scritto tutto questo e il verbale verrà inviato al prefetto che deciderà la sanzione. Senti, tu hai aperto, ho deciso di aprire perché sei un incosciente, perché sei giovane, perché sai che non ti ammali, perché credi in non ammalarti, perché? Assolutamente no, ci tengo molto alla mia salute, ho dei nonni, dei genitori e dei parenti anziani e sicuramente voglio tutelare anche loro, ma io credo che la diffusione del covid non sia in bar e ristoranti con tutte le norme adeguate, più che sia avviene a casa, nei festini abusivi di gente anche della mia età che li fanno. Io credo che è un mio diritto lavorare, ovviamente rispettando le regole, sicuramente il covid esiste, la pandemia c'è, non è il momento sicuramente di speculare su questo, non è il momento sicuramente di guadagnare, ma io chiedo solo di mantenere in piedi le mie attività, sono giovane, ho fatto sacrifici e sto vedendo svanire tutto. Allora, appunto, la giovane imprenditrice, senti l'ultimo flash e veniamo appunto poi agli altri ospiti, quando senti discutere oggi, non so se hai seguito il dibattito in aula, senti la politica che litiga, rischio di una crisi, cosa ne pensi? Penso che le priorità dell'Italia siano altre, salvaguardare i cittadini, non far morire le imprese, non costringere i giovani ad andare all'estero, aiutarci, le questioni politiche possono aspettare.